Un mese di eventi per celebrare il Natale. Si parte da domani con l'accensione dell'albero al Politiama e si concluderanno il 7 gennaio. Il clou degli eventi sarà naturalmente la sera del 31, dove la regina del pop italiano, Elodie, sarà la protagonista del concertone di Capodanno, attese migliaia di persone dalla Sicilia e fuori dalla regione. L'anno scorso abbiamo avviato questa idea di un progetto inclusivo. Quando intendiamo inclusivo intendiamo questo in una molteplice accezione. Quello del coinvolgimento delle istituzioni culturali del territorio, quello del coinvolgimento dei territori e quindi della presenza di attività in tutti i quartieri. Il Natale è di tutti. Inclusione anche sul piano dei destinatari universali a questo punto delle attività. Abbiamo pensato al sociale, abbiamo pensato all'intrattenimento, abbiamo pensato alle manifestazioni per i più piccoli. E poi il riferimento ancora una volta di continuità o di premessa alla continuità col nuovo anno. Una manifestazione natalizia, un programma di manifestazione natalizia intestato a Palermo Stella Mia, laddove la Stella evidentemente può essere riconosciuta secondo molteplici interpretazioni. Ma quella che mi piace più delle altre sottolineare è che Stella per noi è anche il brillare della devozione a Santa Rosalia e questo Natale ci porterà dritti al quattrocentesimo anniversario di Santa Rosalia. Palermo Stella Mia, una vera e propria campagna. Palermo diventa stella perché Palermo risplende anche agli occhi dei visitatori. Oggi Palermo è set naturale di tantissime produzioni cinematografiche. È una città che sta cambiando lentamente, ma sta cambiando. È una città che ha una reputazione diversa da quella che aveva prima e noi abbiamo organizzato praticamente un mese di iniziative, quindi dall'Immacolata o che croce fino al 7 gennaio, coinvolgendo le istituzioni culturali, coinvolgendo tutte le categorie, coinvolgendo artisti e musicisti, dando anche grande attenzione alle periferie ma anche a luoghi del centro non utilizzati prima. Sul palco della Notte di San Silvestro non solo la musica di Elodima si darà risalto in una serata così importante anche alla musica prodotta a Palermo, quella di generi diversi, classica, pop, cantatoriale, rap, rock e dj. Quello che succederà prima è intanto qualcosa veramente di unico, perché avremo l'orchestra meravigliosa del Teatro Massimo, l'aiuto orchestra diretta dal maestro Michele De Luca, insieme con una ritmica che curerò io e insieme ai nostri artisti padermitani che sono Pamela Barone, Giulia Di Liberto, Daria Biancardi e Salvo Samaritano. Quindi cercheremo di fare per due ore tanta musica, tanta musica allegra, ci divertiremo. Sicuramente ci divertiremo tantissimo e faremo divertire il pubblico che starà lì quella sera e chi ci ascolterà in tv. Siamo carichissimi e sono felice di ritornare su quel palco, quindi possiamo svelare le canzoni, mi sa di no, ma ci emozioneremo tantissimo, con qualche lacrimuccia ci sta, sicuramente tanta energia e tanto sorriso. All'insegna del divertimento ci sarà, come diceva Pamela, anche la lacrimuccia, quindi ci occuperemo dei temi di attualità, quindi la donna, la pace, l'amore e abbiamo oltre la ritmica un'orchestra magnifica che è quella del Teatro Massimo e quindi speriamo di alietarvi in queste due ore prima del concerto di Eloy. Intanto io credo che la cosa più bella sia l'unione di artisti, gli artisti che si uniscono per fare in modo che questo Capodanno possa essere sì diverso, ma si dice sempre che questo Capodanno è diverso, ma in realtà è proprio l'unione degli artisti palermitani, l'unione con l'orchestra giovanile, e quindi i giovani che prendono campo su un palco, davanti a migliaia di persone, quindi io credo che l'originalità di questo Capodanno possa essere definita così, come unicità e come unione. Non solo musica, ma la notte è tutta da ridere con il Cabaret, firmato da Sergio Vespertino, considerato uno dei migliori attori di teatro comico siciliano, oggi anche voltamato, anche del piccolo schermo. È un onore per me poter festeggiare con i palermitani, mi sento tanto palermitano anche quando esporto i miei spettacoli, perché porto la parte buona della nostra terra, quindi mi impongo di lasciare anche una porzione di dialetto, perché deve essere anche assorbito dagli altri, i nostri colori, i nostri suoni. Ci sarò anch'io nell'ultimo dell'anno ad esprimere un invito che posso raccogliere da tutti e poi dare con la mia voce.